E' stata una partita che è iniziata diciamo male per noi, abbiamo preso un gol quasi a freddo però devo dire che la squadra si è dimostrata matura, che ha reagito bene, con calma, ha creato subito delle buone situazioni poi abbiamo fatto il pari già al primo tempo, ci siamo andati sopra 3 a 1, quindi la partita si è messa bene i primi dieci minuti del secondo tempo abbiamo un po' sofferto, eravamo controvento, Stella ci ha messo un po' in difficoltà soprattutto su dei calci piazzati, poi una volta fatto il 4 a 1 diciamo che la partita si è chiusa, l'abbiamo gestita bene poi abbiamo arrotondato il risultato, quindi è una prestazione sicuramente molto positiva